Volevo fare gli auguri per i 35 anni di Zelig, che è quel locale della minchia che non mi ha mai preso. Ho fatto svariati provini, ma vi avete sempre detto torna la prossima volta. In particolare quei due vecchi, Francesco e Michele, che non mi hanno mai cagato. E chi so, son lillo, non mi vedete? Sono io. E comunque tanti tanti auguri per altri 35 anni e speriamo che abbiate bisogno voi di fare un provino che... Vabbè, saluti a tutti. Mi sarebbe piaciuto lavorare nel vostro locale della minchia, ma non mi avete mai... Sappiatelo, eh. Guardate, sapete dove sono? Lasciamo stare. Tanti auguri comunque.